ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare rasseren bio products srl ultimo aggiornamento 7 aprile 2022 a cosa serve confezioni informazioni commerciali modalità d'uso descrizione e caratteristiche avvertenze ingredienti a cosa serve rasseren è un integratore appartenente alla categoria degli integratori per la regolazione del sonno e stress è commercializzato in italia dall'azienda bio products srl informazioni commerciali titolare bio products srl concessionario bio products srl categoria di appartenenza integratori per la regolazione del sonno e stress forma farmaceutica gocce confezioni rasseren gocce 30 ml modalità d'uso 20 gocce al giorno descrizione e caratteristiche rasseren marchio registrato gocce è un integratore alimentare utile per apportare una quota dei fattori nutrizionali presenti nella composizione in caso di carenza alimentare o di aumentato fa bisogno di tali ingredienti l'effetto benefico della melatonina sulla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno si ottiene con 1 mg poco prima di coricarsi avvertenze tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini non assumere in gravidanza e durante l'allattamento gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e vanno utilizzati nell'ambito di uno stile di vita sano ed equilibrato conservare a temperatura ambiente evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate la data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra agitare bene prima dell'uso l'eventuale presenza di precipitato non pregiudica la validità del prodotto non eccedere la dose giornaliera consigliata ingredienti acqua melissa officinalis foglie es tit 2 per cento ac rosmarinico passiflora incarnata foglie es tit 2 5 per cento vitexina umulus lupulus strobilo es tit 0 4 per cento rutina luptolo glicerolo triptofano gomma xantano melatonina conservante potassio assorbato polisorbato edulcorante xylitolo aroma fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la parma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato grazie a tutti